Cresce a Castel San Giovanni il numero di auto abbandonate, senza assicurazione, magari senza targa, agli angoli della città. In soli 20 giorni gli agenti della polizia locale ne hanno rinvenute ben sei. Tutte sono state mandate a spese dell'intera comunità, visto che i proprietari non si trovano in depositi autorizzati. Ma il fenomeno preoccupa se si pensa che ognuna di queste auto rischia di diventare ricettacolo di degrado e potenziale siede di bivacchi improvvisati. Di pari passo, i numeri dei controlli effettuati dalla polizia locale di Castel San Giovanni segnalano il crescere di altri fenomeni di malcostume, tra cui quello di guidare mentre si telefona. In pochi giorni sono stati ben otto gli automobilisti fermati con il cellulare. Qualcuno ha tentato di giocare la carta di improbabili scuse come quella di dover per forza rispondere alla propria madre pur di evitare guai, ma il risultato è stato sempre lo stesso. 165 euro di multa e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Stesso discorso per i 25 automobilisti fermati senza cintura. Uno di loro era in auto con un bibbo senza seggiolone e agli agenti che gli facevano notare la pericolosità del suo comportamento ha semplicemente detto di non esserne provvisto. Anche per lui è scattata una sanzione di 83 euro e 5 punti decortati dal documento di guida.